Questo angolo di paradiso si trova a Oliveri, in provincia di Messina, e la barca su cui siamo saliti ci sta portando verso la riserva naturale dei laghetti di Marinello. Si tratta di una lingua di sabbia in mezzo al mare dalla conformazione quasi naturale, che nel tempo cambia a seconda delle stagioni per via delle correnti costiere e delle mareggiate da nord-ovest. Camminando lungo la spiaggia si arriva sotto il santuario della Madonna del Tindari, dove nel tempo, grazie alle correnti che trasportano materiali sabbiosi, si sono formati dei laghetti in mezzo alla spiaggia. È arrivato il momento di riprendere la barca per andare a mangiare in uno dei luoghi più caratteristici della zona, il Lido Belvedere, dotato di una splendida vista sul mare, dove ci lasciamo deliziare con una frittura di calamaro, prosecco, un bel misto di crudo a base di pesce e una deliziosa pasta con le vongole con un tocco di bottarga.